raga eccoli qua su twitch 5 moderatorio me ne servono altri 5 10 11 questi qui sono quelli moderatori che ho messo nel mio canale twitch eccoli qua se mi potete fare la gentilezza di se volete essere i miei moderatori di farmi la gentilezza di venire in live vi metto mod c'è diego c'è come dicevo poc'anzi antonio c'è diego c'è cristiano yousafe over the stefano c'è stefano raga niente ne servono altri 5 questo il mio canale dei ruoli twitch il mio canale eccolo qua come dicevo se riuscite a venirmi a trovarmi in live quelli che non sono moderatori vi metto mod li metto in moderazione io come sempre io vi lascio il link qua sotto del mio canale e dai raga è molto importante questa cosa fatemi sapere che durante la live io vi metto in modo ok grazie raga vi voglio bene